E se decidessi di aprire un canale YouTube e copiare il concept di un video del buon Karim decontestualizzandolo su un server multigiocatore? Buongiorno mondo! Prima di partire è meglio mangiarsi quest'ultima fetta di torta Porto anche su un po' d'acqua che non si sa mai Oh! Vè che bello! Sentite i versi della natura Ok però basta che mi stanno dando fastidio Andiamo a vedere in ufficio se hanno qualcosa per me Buongiorno Franco! Buongiorno! Come andiamo? Tutto a posto? Salve Teresa! Salve! Come andiamo Teresa? Tutto a posto? Hai qualcosa per me? Hai da farmi fare? Devo lavorare un pochino per guadagnare Ok grazie! Adesso guardo Ok Teresa è qui fuori la cassa Sì? Ok grazie torno subito Questa dovrebbe essere la cassa Ecco Va bene Io vado Franco mi raccomando bada Teresa che è malandrina Ok sono passato da casa a prendere un po' di bistecche Buongiorno Permesso? Salve! Buongiorno mi scusi Lei il portinaio sa dirmi dov'è? Mi scusi mi guardi per piacere Ecco grazie Volevo sapere dov'è il campo alla porta della signora And Drago 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 Di qua a destra Buongiorno Buongiorno Tutto a posto La vedo un po' cupa lei Grazie mille Grazie Arrivederla Buongiorno signorina Le ho portato la cassetta con le mele Guardi Gliela poso qua Salve Buongiorno Tutto a posto? Spero di sì Carina a casa sua Un pochetto cupa Questi sono i suoi figli? Che carini Sembrano simpatici Oh guarda vuole giocare Oh no No Non sono carini Non sono carini per niente Buongiorno mondo Ciao Franco Buongiorno Teresa Oggi Oggi cos'hai per me? Ok Ci guardo Ok Teresa Lo faccio subito La missione di oggi Sarà dura Abbastanza difficilotta Adesso Vado Ho un'idea Vediamo Sperando di non Roppere tutto Ecco Un attimo che Ma allontano un pelo Che Ci sa mai Salve Ecco Quindi Io adesso Ucciderò Il Wither a mani nude Ecco Ecco Ce l'ho quasi fatta Ce l'ho quasi fatta Dai Dai Ecco fatto Perfetto Il mio sgabello Che mi serve a casa Dammi Dammelo Quanto duro Ok Buongiorno mondo Sono un po' stanchino Oggi devo andare a recuperare Un debito di mio zio Dove sono i soldi gigino? Gigino dimmi dove sono i soldi Dimmi 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 dove sono Guarda che ti sfascio la casa Ti sfascio tutto Orca Ti spacco tutto Ti spacco Dove sono i soldi? Devi dare dei soldi Dove sono i soldi? Dove sono? Guarda che ti spacco la testa Ti spacco Vedi Mi hai costretto te a farlo Io non volevo farlo Buongiorno mondo Oggi non ho voglia di far niente Mi sa che vado da Francesco a bere qualcosa Ah che bello Questa si che è vita Un po' di relax ogni tanto ci sta Poi tra un po' torno a lavorare Prometto Filippo Dammi un bacino Filippo Dammi un bacino Filippo Dammi un bacino Filippo Non ti voglio tanto Bene lo sai Sei cattivo Filippo Non ti voglio più bene Ciao Barcello Predo un attimo in prestito Oh capiseri Predo un attimo in prestito La tua barca Te la riporto Devo andare a fare una cosa Te la riporto subito Tranquillo Una barchetta in mezzo al mare Andava Santa Fe Allegria Oh buongiorno mondo Oggi è giorno di paga Ah ecco che qua Buongiorno Ecco ecco l'ufficio Salve Non c'è Marilena Oh però mi ha lasciato Cinque euro Perché hai cinque euro? Pagamento per i servizi Portare le mele Cinque euro Quello l'ho fatto Uccidere Wideramani Città Ma io non è vero Non ho Recuperare il debito Ah ho sbagliato Restate i giorni assente Siete degli stronzi Non va bene trattare così le persone Adesso Guardate cosa vi faccio adesso Eh? Eh? Chi è che ride adesso? Ai Chi è che ride adesso? Eh? Eh? Bastardi A tutto do fuoco Do Do fuoco a tutto Porca miseria Ve lo meritate tutti Ve lo meritate Fanculo Che ho bruciato il villaggio Non mi resta che Che bruciare anche con lui È stato bello Mousi DoSee Guardare feed Grazie a tutti.